Dopo Ivan Santaromita, Marco Pinotti, secondo titolo italiano in casa BMC. Sì, siamo venuti qui cercando di fare bene, sapevo ieri io non ho corso perché volevo buttare, sapevo di avere molte possibilità di oggi, ma infatti questo Santino è riuscito a vincere, ha tolto un po' di pressione, però nello stesso momento mi ha motivato per oggi e sono riuscito a portare a casa mia la maglia. Marco, questo è il tuo sesto titolo italiano, cosa vuol dire indossare il tricolore? Beh, per me ha un significato particolare, cioè mi sembra sempre considerato il cronometro la mia specialità preferita e sentirsi il miglior in Italia è una buona cosa anche dopo tanti anni. E cosa si pensa quando si pedala contro il tempo? Perché oggi c'era anche un vento terribile. Io sono sempre concentrato sulla cadenza di pedalata, su cosa mi aspetta il corso di un chilometro e penso solo a cercare di fare quello che ho programmato nella ricognizione del percorso. Quest'anno ci sono i mondiali in Italia, ci stai pensando alla cronometro e ridata? Facciamo questo vincere oggi, è un buon passo verso l'itenza.